con nota di partenza, quindi di contenuto tecnico molto alta e poi ovviamente la caduta pregiudica irrimediabilmente un esercizio. Questa atleta potrebbe dire qualche cosa per la medaglia, abbiamo detto qualche istante fa è arrivata a seconda in qualifica e l'abbiamo vista prima le parallele asimmetriche, uno sbilanciamento, è rimasta ai piedi del podio, alle parallele, è stata quarta dietro la lenica de Simona. È un'ottima partenza, è molto stabile l'esecuzione, qui una twist, la ferma, la dice lunga sulle capacità acrobatiche di quest'atleta sull'attrezzo, una jambè e quindi sono dei salti ginnici che sono necessari pure anche questi per l'attribuzione di valore d'esigenza, elementi tecnici di altissimo spessore. Questo salto senza l'appoggio, un piccolo sbilanciamento ma ben eseguito, una pirota che può sembrare elementare come gesto acrobatico rispetto a quanti se ne è visti prima ma in effetti nasconde delle insidie enormi perché un giro di 360 gradi con gamba che deve essere mantenuta ad un'altezza di 90 gradi, quindi un angolo retto, non è facile, si gira praticamente. Perché dell'accessualità ricorda una nota connazionale della... E qui la cortica è un fantasma che purtroppo per loro perché... Si sarà ispirata o è naturalmente... Non lo so, è tipico vedere in alcune squadre il ripetersi di una certa fisicità, un po' perché c'è un...